Numerose gli appuntamenti in questi giorni per l'attività delle commissioni del Consiglio Comunale di Napoli. Mentre stamattina sono state rinviate rispettivamente la seduta della Commissione di Vigilanza per il monitoraggio dell'attività della Bagnoli Futura e per l'elezione del Presidente e la Commissione Speciale di Indagine Conoscitiva sulla discarica di Chiaiano, si sono poi riunite la Commissione Diritti e Sicurezza, preseduta da Gaetano Troncone, che ha ascoltato l'organizzazione sindacale UIL sulle problematiche sulla riforma del Corpo della Polizia Municipale e la Commissione Bilancio, preseduta da Elpidio Capasso, sul tema dei tributi, con riferimento al potenziamento e all'organizzazione dei servizi allo scopo di recepire proposte di miglioramento. Ieri invece le Commissioni Urbanistica ed Ambiente, presedute rispettivamente da Carlo Iannello e Carmine Attanasio, si sono riunite congiuntamente per un'audizione del sovrintendente ai beni architettonici, paesaggistici, artistici e dettono antropologici Stefano Gizzi. Fra i molteplici temi trattati, la salvaguardia delle strade, le autorizzazioni per l'apertura di supermercati nel centro storico, l'area di bagnoli come anche quella dello Stadio San Paolo, lo sblocco della vendita degli immobili di proprietà del Comune vincolati per il loro valore storico, paesaggistico ed architettonico e la possibile intesa per sbloccare le 30.000 istanze di condono ferme da due anni in materia di violazione dei beni paesaggistici e storici.